La prevenzione fa cultura e questo è il messaggio che si intende lanciare ai giovanissimi delle scuole medi di Atri, Silvio e Pineto. È il secondo festival organizzato dall'Automobile Club d'Italia, secondo cui occorre formare i ragazzi per costruire una società migliore. I ragazzi sono un target importante perché riportano, nelle famiglie, riportano quello che apprendono anche ai grandi, cosa che magari non accade se una iniziativa del genere la rivolgi direttamente ai genitori. Imparando, sapendo, conoscendo, sapendo mettere in relazione le conoscenze, quindi parliamo non di nozionismo ma di cultura in senso più ampio, riescono in quel modo a prevenire tantissime cose, a prevenire, che devo dire, sentimenti razzisti, a prevenire stati autoritari, a prevenire ingiustizie sociali in senso lato. Si sono relazionati ai giovani anche i rappresentanti della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco. Lo scopo è fare prevenzione, lasciando alcuni consigli su come vivere il mare ai ragazzi della costa terramana. Il nostro messaggio è quello di fare il bagno in sicurezza, quindi fare in bagno sempre in compagnia di un'altra persona, in questo caso di età, parliamo ai ragazzi 17-14 anni di fare sempre dove c'è la presenza di un bagnino, quindi il servizio di salvataggio assicurato, di magari chiedere le condizioni metomarine prima di buttarsi in mare, di non farsi il bagno dopo una lunga esposizione al sole. Di pari passo batteremo sulla sicurezza in mare e sul rispetto dell'ambiente, che poi è la stessa cosa. Il tutto si è svolto nella cornice del centro universo di Silvia Marina. Qui in questi giorni è stata allestita anche un'esposizione a quattro ruote. Per i corridoi del centro commerciale è possibile ammirare auto d'epoca e da competizione.